i bebè si sono riuniti e si vantano dei loro hobby ma Lexi pensa di non averne scoprirà il suo talento nascosto questi fichi sono deliziosi qui a tutti i frutti beach ci divertiamo sempre sì e con gli amici e con i fichi noi saremo sempre uniti qui a tutti i frutti beach ci divertiamo sempre sì e con gli amici e con i fichi noi saremo sempre uniti che canzone meravigliosa l'hai improvvisata ovviamente wow e l'oculele è di legno sì l'ho fatto io me la presti certo la collana che indossi è super carina ti piace l'ho fatta con le conchiglie della spiaggia sei un artista cosa ne dite del mio look wow le infradito sono fantastiche la tua borsa mi piace tantissimo ecco glam tienila non ci sono più fichi chiedine un po' a Lexi Lexi puoi portarci altra frutta ma certo cosa state facendo bebè? Coco ci ha mostrato il suo oculele lo ha fatto lei e Maggie ha fatto una collana fantastica oh e Green sta scattando delle foto bellissime oh che belle fate cose incredibili io non so fare niente di tutto questo questi lì ci sono fantastici deliziosi sono finiti tutti cosa facciamo senza frutti tutti i frutti invece è spacciata non preoccupatevi bebè possiamo coltivare una nuova pianta come? ci sono ancora i lamponi andiamo a piantarli noi due? impossibile abbiamo bisogno di aiuto forse i bebè della valle e i bebè della montagna fantasy ci possono aiutare grazie mille bebè senza di voi non so che faremo non c'è di che ma c'è un problema non sappiamo come piantare la frutta non preoccupatevi vi aiuteremo noi con pochi semplici passaggi pianteremo i lamponi nel terreno nella terra non crescono sugli alberi dipende da che frutta esatto i lamponi crescono su bellissimi alberi oh non lo sapevo ma Lexi come si pianta un lampone? prima cosa dobbiamo prendere i semi del lampone e adesso Lexi! secondo piantiamo i semi prendete un po' di terra e coprite i semi come se avessero freddo vedete? terzo ma non meno importante abbiamo bisogno di un... annaffiatoio! e con un bel getto di acqua gli diamo da bere ha molta sete! e ora arriva la parte più divertente cantare alla pianta mentre la innaffi pianta pianta io ti pianto pianta pianta cresci tanto pianta pianta io ti pianto pianta pianta cresci tanto e adesso che facciamo? aspettiamo! i semi inizieranno a fiorire tra 4 e 6 settimane quattro settimane dopo Lexi! Lexi! i lamponi stanno crescendo! i lamponi stanno crescendo! vedete bebè? ci vogliono alcuni giorni perché il lampone cresca prendi Lexi! grazie per averci insegnato a piantare i frutti vorrei sapere tanto sulla frutta quanto te poco a poco imparerai e poi i tuoi biscotti sono fantastici vorrei saper cucinare se vuoi posso insegnarti esatto! la cosa più bella è condividere con gli amici le cose che più ti piacciono così possiamo imparare cose nuove come imparare a piantare frutti deliziosi o creare collano incredibili Lexi! tu sei la migliore a coltivare la frutta! grazie bebè! Lexi! ti regalo una delle mie collane è di frutta? ma certo! questa è tutti i frutti beach! il mondo della frutta! wow! è gigante!